secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di riguarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie 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 non ci ha rovinati grazie vai salientra ora che mi conosci o ragazzi che avevo detto in america le abbiamo conosciuto ma anche sto le foto a times square ma anche sto le foto in california eppure qua piacere averti conosciuto e c'era chiudere ciao matteo buona continuazione grazie grazie aspetta aspetta matteo matteo da fare una foto e la devo pubblicare se la sei matto quando mi ricapita noi siamo qua a piacere ciao a te ma vivete qua si aspetta pubblico io la pubblico ciao ragazzi buona continuazione ciao grazie ragazzi signori io ho detto questo ci sono anche le ciabattine raga avevo le ciabattine notevoli questo costa mille euro ragazzi mille euro allora detto questo ragazzi io vi faccio la buona notte vi mandiamo un bacio grande ragazzi grazie ci rivediamo per voi domani mattina alle otto e mezza a solito orario della live ciao ragazzi un bacio grande buonanotte vediamo se riesco aspetta io vi saluto ma devo capire se riesco aspetta a staccare la live non è facile ciao ragazzi spero che vi siete divertiti oggi c'era quella di pokemon se ci siamo perso è andato noi abbiamo sposto alle otto e venti quanto era per la shibuya tower è un po' più di spillo di qua ti allontani ventun minuti siete me meglio che andiamo verso di là dai allora facciamo una roba però bisogna capire se e paperelle raga ciao 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 bello che mi sembra un rumore questo qua è il coso che ti lavi il culo è un cesso in Australia ci sono diversi fusi orari io sono a Melbourne abbiamo otto ore avanti quindi più o meno come il Giappone che il Giappone sono sette ore avanti per cui dovremmo vedere ciao buongiorno purtroppo ecco una cosa che non potremmo guarda che è pieno cioè ti mangi sto coso se tu usano questo per pulirci le mani potete vedere ha su due cani ed ha la scatola magica per i viaggi dentro qui ci sono spinotti vari e come si dice adattatori particolari per poter ascoltare anche lo stesso film in due contemporaneamente o ci sono prolunghe c'è un po' di tutto raga ti dice Tommy di leggere i G porca puttana qua è tutto nascosto perché se no era tutto all'aria merda era tutto all'aria ok saliamo ancora io gliel'ho proposto non lo vuole è più giù per lei che devo fare? ok adesso ragazzi non parlo vi faccio solo vedere la nostra camera di hotel potrebbe andare via il segnale però adesso non parlo che entriamo in hotel la chiave la chiave non parlo c'hanno un po di pochette c'hanno un po di cose c'hanno i cordini del cellulare le robe un po particolari ma è fanculo troveremo altro da un'altra parte nel senso no non c'hanno niente di esageratamente figo raga il bambino antistress è veramente inquietante non ho assolutamente di cosa siano queste cose certamente ovvio ma con la maschera guarda la maschera con ho preso ho preso un pacchetto di carte pokemon che mi avete detto mio dio south park cato dietro le due croci ma che li ha attaccate quelle croce lì perché butti via i soldi su shane per abbellire le mie scarpe che sono veramente soldi buttati un buonissimo e mi è piaciuto mcdonald lo metto sul secondo posto perché hanno tutte le loro cose fanno i panini più buoni e secondo me la qualità è più alta lo vedi c'è stato la foto full box è una cinese no ma cosa sta dicendo gaming faccia il bravo amo però questa qua di dorme la cosa bella di questo mcdonald è la scatola di questa mattina spostiamoci in metro perché io ho il problema che da quando sono andata a new york ho fatto una forte infiammazione che adesso comunque mi sveglio ancora con ogni tanto i dolori soprattutto quando è brutto tempo e noi camminiamo e visto siamo in giro da stamattina alle nove e ho ogni infiammazione l'ho prendo un antidolorifico stasera un giorno a quarta come stai questa esperienza è come new york come primo giorno mi ha massacrato e cioè io devo fare i viaggi così glielo ho detto non ci vado più perché piuttosto che star tranquilli camminare fa bene lo metto in dubbio ma noi non siamo persone che siamo abituate a camminare quindi capisco camminare un'ora due ore tre ore ma da stamattina alle nove che camminiamo oddio non lo so ring toss ok 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 yeah it's ok ok melawan ok yeah strongMan tizio a destra di faccia raga 18 maggio 8 e 30 da casa grazie simo grazie bello raga ve l'avevo promesso che lo pseudo trip 3 sarebbe stato qualitativamente superiore a new york e sono felice di aver mantenuto la promessa ho dovuto porconare tanto e mike sogno sondesto e il multiverso ci siamo noi siamo 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 veramente siamo insieme siamo insieme ragazzi io oggi sono arrivato a tokyo ci siamo sentiti un paio di settimane fa e gli ho detto aiuto fondamentalmente mike ha risposto all'aiuto ed è anche grazie a lui se possiamo strimare ragazzi perché il problema di tokyo fondamentalmente è che se sei un turista la sim per navigare in internet ha una durata super limitata quindi sarebbe stato fondamentalmente impossibile riuscire a lavorare da tokyo avremmo dovuto fare tutto tutto altro ragazzi e invece con mike siamo riusciti riusciremo ad andare in live tutta la settimana e anche a seguire la chat come vedete tenuta sul polso minchia adesso sento un po la stanchezza cosa amore mio che non ci sia l'effetto domino ok molto bello raga c'è un vento fottuto porca merda che vento bello viaggiare così ci sono molti ragazzi allora adesso secondo me comincia ad iniziare a rendere un botto raga comincia ad iniziare a rendere un botto perché cala se cala la luce arriva la sera e arrivano tutte le insegne belle luminose no ha vinto lo snorlax quello che stavo prendo io strontano il bianco o l'arancio? quello che tu non mangi o più le mangi tutte le mangi? no scegli te cosa vuoi su tampuzzo c'è un galluzzo ha la barba che ci cresce e ci cresce a cucurucù vatti fuori vattenne tu scusate se qua sono quasi le 11 raga il programma di domani cosa consiste? non lo so perché l'ho perso quindi lo decidiamo con il mio foglietto dopo più tardi esatto Ila c'è l'Ilaria? si guarda che io mi ricordo tutto non mi devi scriverti ricordi di me che so benissimo chi sei e allora che abbiamo un botto di roba chi sei? goku non lo sa perché la metti via? ah vuoi finirla un po' piccola e piccola hello thank you thank you thank you senti che cazzo tu la parola di me è solo vergognare per favore per favore perché fate la la corsa bella bella bocca